Ragazzi utilizzate questa slow motion per andare a perfezionare nel dettaglio il controllo orientato guardate come appena tocco la palla con il destro parto subito con il sinistro per guadagnare un tempo di gioco ed essere rapidissimo nel guadagnare campo in partita poi vado a fare uno slalom per allenare il dribbling poi fermo la palla ancora controllo orientato sulla paretina e poi vado a fare una veronica per mettere con eleganza la palla all'interno della porticina Grazie Grazie